ciao a tutti e buona domenica e benvenuti a una nuova puntata sulla more ground stavo osservando il mio aiutante infatti ha fatto il primo il primo passaggio purtroppo ho trovato un piccolo errore se qualcuno di voi se lo ritrova e adesso vi faccio vedere come eliminarlo perché mi ha dato un problema all'uscita del della trincea qui perché io si ho modificato diciamo che da quell'originale ho fatto qui una curva lui l'aveva solo stretta con dei cosi dritti però a me non piace perché perde troppo tempo e li ho fatti un po più storti adesso si adesso funziona allora cosa è successo fermiamolo un attimo così vi faccio vedere un po quello che è successo allora il punto qui 1 2 3 4 5 questi qua dove lui viene a scaricare dentro alla trincea erano messi troppo vicini qui circa no e se ci guardate secondo me voi ce l'avete ancora qui e cosa succede che nel momento in cui lui arriva qui al punto dove diciamo che è il biocassilo 1 e lui supera questo punto ma non ha finito di scaricare lui si mette a girare intorno perché vuole andare a prendere di nuovo questo punto qua invece lui deve finire di scaricare prima di arrivare a questo punto cioè tipo qui così che lui finisce di scaricare arriva qui si prende questo punto qua che lui arriva a questo punto deve essere già vuoto quando arriva qua e lui riparte prende il secondo va a fare il secondo viaggio io questi qua non so come sono messi perché come già detto io ho solo sostituito lui aveva ci aveva messo un dritto tipo aspetta ve lo faccio vedere qua davanti che si viene meglio lui aveva fatto un dritto tipo così però a me non piaceva e ci ha fatto sta curva non so però se questa situazione qui ve la potete trovare anche nella vostra nel vostro save game o per meglio dire dentro al file del dei percorsi di autodrive se c'è una cosa del genere se dovesse avere questi problemi qua spostate il punto un po io ce l'avevo circa qua spostato l'avanti così che la combinazione trattore rimorchio deve essere all'esterno dal dalla trincea e prima di arrivare il punto qui spero che sono stato chiaro nella spiegazione non vorrei creare più confusione spero che sono stato abbastanza chiaro sì comunque se avete dei delle domande scrivetelo sotto nei commenti che vi risponderò per quanto possa dall'ultima puntata ho lavorato un po e ho diciamo che messo tutto dentro con per quanto riguarda la paglia ho raccolto tutto il tutto il fieno che avevo sul campo 2 mi sembra che il campo 2 quello no campo 1 tutto il fieno l'ho messo dentro alle mucche ma secondo me questo l'avete visto e poi nel frattempo ho iniziato o per meglio dire ho già arranghinato infatti il mio aiutante qui è già è già finì ha già finito e adesso inizio piano piano ho iniziato a raccogliere l'erba perché in questa puntata qua vorrei andare a saltare la notte per meglio dire compriamo un po di mucche poi saltiamo la notte che in settembre no a novembre dovrebbero venire pronti i campi e possiamo finalmente iniziare la raccolta o del inizieremo o mais o barbabietole o vediamo se riesco ad organizzarmi magari tutti e due così che finita la raccolta di entrambi poi possiamo iniziare a lavorare anche di nuovo i nostri campi allora porto dentro questo nel frattempo lui li lavora io avevo intenzione di fare un'altra cosa voglio andare a vedere se le mie balle di insilato sono finalmente pronti aspettate che avevo per fare una prova avevo abbassato il tempo prima allora torniamo qui sulla velocità 2 così almeno andiamo un po più avanti nel frattempo lui raccoglie l'erba secondo me ne avrà uno massimo due viaggi intanto quello fa presto noi diamo una lavata a questo qui no e qua li ho messi troppo a fianco effettivamente sto cosa qua dell'officina me lo potevo pure risparmiare perché nel nel capannone là sopra c'è l'officina però ormai è andato messo lì e questa scusa qua abbiamo provato anche la trincea perché sarà quella che riempiremo riempiremo con tutto il mais che andremo a tagliare questo aveva se non sbaglio no non ce l'ha no non ce l'ha il parcheggio assegnato adesso gliene assegneremo ho sbagliato strada gliene assegneremo uno così almeno ogni volta c'è bisogno che ci vada io e quello nel frattempo si è bloccato benissimo allora qua no qua da nessuna parte questi no qua ci voglio mettere a fianco all'altro rullo così i rulli ce li ho tutti in un punto è quasi quasi lo metto dentro anche qui così almeno ce li ho tutti qui dai adesso dopo lo sistemo vediamo il tipo perché è bloccato ah ok è salito lì sul gradino cosa ho fatto è strano ah sì probabilmente gli dà fastidi prossimo giro ne faremo uno in più vabbè sapete che vi dico che adesso me lo faccio io qua così faccio pure prima no Sì, 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 sì. bella consegna la facciamo fare ad autodrive così facciamo due cose che è la prima e proviamo i percorsi se funzionano tutti così che non abbiamo problemi durante la trinciatura e seconda cosa che lui suddivide autodrive suddivide benissimo il nostro prodotto all'interno della trincea perché nel momento in cui lui entra in trincea si calcola il tempo preciso della lunghezza della trincea e rallenta così che sfrutta tutto il percorso preciso fino in fondo ma la cosa più importante adesso è provare se i percorsi scaricano bene o meno magari off screen proverò anche gli altri così se ci dovessero essere dei problemi magari tiro fuori una seconda versione di questi percorsi qua che almeno sappiamo che funzionano meglio ho notato che a differenza di quando li registro i percorsi lui ha alternato i percorsi all'interno della della trincea come potete vedere ha saltato sempre uno perché fa tipo uno poi il quello a fianco l'ha saltato il due a fianco l'ha saltato infatti siamo già a quattro quando qui all'interno sono perché lui poi 5 6 7 sì sono sette punti e lui li alternati vediamo qui sì qui funziona diciamo che un qualche centimetro in più non sarebbe stato male no invece di metterlo lì dove è il punto adesso magari metterlo anche nel punto un pelo più avanti perché nel caso in cui avessimo un una combinazione un pelo più lunga già il percorso per come ce li ho io adesso non non sarebbe proprio adatto qualche fastidio ce lo darebbe ma io come combinazione più lunga di questa non è o anzi quegli altri sono ancora più corti che significa che va bene questa e e e e e Grazie a tutti. 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 Bene, qui allora abbiamo finito, ci rimane solo da, adesso facciamo una cosa, abbiamo provato anche il 5, questo svuota di qua, va dritto, va dritto, allora vai e togliti dalle scatole. Allora mi, adesso si ferma, cosa mette pure la marcia indietro? Aspetta che passo, su è pericoloso. Allora, va che parte? Allora, non mi rimane che provare anche il 6, visto che ho un po' di materiale ce l'ho, lo provo. Perché il 5 l'ho provato prima, cosa ci ho messo? Il 3? No, non il 3. Aspetta, abbiamo detto il 6. Ok. Avevo provato il 5 prima, il 6 adesso lo proviamo e dopo vediamo un po', saltiamo la notte, vediamo come ci mettiamo. E poi vediamo qualcosa da fare, perché? Ah vabbè, sì. E poi vediamo come si è messi. Vedete tutto il rallentamento potente che ha, secondo me, perché ci sono queste marce indietro, questo pezzo di percorso a marce indietro, cioè a marce indietro, a due, a doppio senso che lo fa rallentare più del dovuto. No, sbagliato. Per quello di qua, perché sta svoltando di qua? Eh, purtroppo la situazione è questa, che ognuno registra i percorsi a modo suo, e probabilmente quando li ha provati, li ha provati con un rimorchio più piccolo di questo, e lui funzionavano, perché io so che lui li controlla i percorsi, ma lui funzionavano in quel modo, li ha lasciato così. E' solo che poi vai a utilizzare tutto un mezzo diverso e in quel caso non può funzionare, o per meglio dire potrebbe funzionare se è il mezzo che abbiamo utilizzato per registrare più o meno lo stesso, ma se è troppo lungo, specialmente nello scarico e nel carico, se è troppo lungo o più lungo del percorso che c'è, bisogna che i percorsi ce li modifichiamo a modo nostro. Vedete, lui ha registrato anche queste rotonde, a me non è che mi fanno impazzire le rotonde, da un lato van bene perché con una rotonda del genere hai molte più sovrastabilità di fare i percorsi, no? Il problema è che la rotonda, avete visto che ti fa fare dei giri che sono comunque strani, eh? Vedete che adesso va molto più veloce, poco fa faceva gli 8-9 km all'ora, adesso faceva quasi 16, il che significa che aveva molto meno materiale ed è normale che fa' sta cosa così. Allora, qui abbiamo finito, direi che adesso parcheggio questo qua vicino alla mia casa, lì così almeno, ce l'ho pronta consegna, il solio c'è va bene per adesso. Andiamo a spegnere questi percorsi che quando non servono mi danno fastidio. Questo campo qua qual è? Io sono qui, ah il 18 il nostro, no? Quello che abbiamo seminato. La prima fase è già cresciuta, bene. Comunque vi ricordo che oggi, sempre al solito qui, per quanto riguarda la morgrond, due puntate alla domenica. Iniziamo nella prima, non finiremo di sicuro nella seconda, ma almeno, ancora ho sbagliato. Vabbè, ma niente. Scendo da qui. E mi parcheggio qua vicino. Allora, come al solito, prima di saltare la notte salvo, perché non vorrei, che poi mi sono dimenticato qualcosa, e dovessi tornare indietro almeno, almeno ho salvato il punto giusto. Otto va bene. Allora, saltiamo la notte, dovremmo essere a settembre, no a settembre, a novembre, diamogli 5 minuti alla mappa per aggiornarsi. Vediamo un po' come si è messi con costi veicoli, manutenzione tenuta, entrata. Sì, l'entrata tenuta è perché, non so se di voi qualcuno ci ha fatto caso, ma ho montato, ho installato questi due piccoli pannelli solari. Probabilmente più avanti ne metterò un po' di più, tutti qua, perché non costano tantissimo, sì, non è che guadagniamo milioni, però qualcosa fanno, dai. Andiamo a vedere, vediamo gli aggiornamenti della mappa, se ci andiamo così facciamo prima. Oh, guardate un po', qui è tutto pronto. Il 15, vediamo se abbiamo dimenticato di metterci qualcosa. No, allora, il pH siamo intorno a 6, dovrebbe essere 6,5, va bene, l'azoto è perfetto. Rendimento previsto, 90%, 11,2 tonnellate l'ettero. Questo per quanto riguarda però il mais, non penso che per, come si chiama, ti fai il calcolo per l'insilato. 100%, 11,4 tonnellate, 12,4 tonnellate. Beh, perdiamo circa una tonnellata di materiale, no, non è tantissimo. Andiamo a vedere invece sul campo 9 le nostre barbabiedoles. Guardate un po' qua. Oh, qui ne perdiamo molto di più. Da 77 totali, eh, perché qui non abbiamo dato né di azoto né di calcio, non abbiamo dato niente. Qui perdiamo un bel po'. 76 tonnellate contro i 103. Ah, potenziale rendimento il 125% però. qui, 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 qui il materiale ce ne lo dà. Allora, inizialmente lo scaricherò qui per terra e dopo li raccoglierò perché altrimenti non riesco a fare l'altro campo. E l'altro campo è grandissimo e direi che ho bisogno, bisogna che inizialmente gli stiamo dietro, molto molto dietro. Allora, iniziamo subito, facciamo una cosa. Portiamo questa. Portiamo questa sul campo 9. Così gli facciamo fare due giri e poi lei lavora in autonomia, cioè andrò solo a scaricare. A meno che non... Aspetta un attimo, eh. Non mi ricordo se l'avevo messo. Ma tanto costa una tonnellata, non ne vale neanche la pena. Vediamo. No, avevo scaricato una mod per... quella per scaricare proprio i barbabietoli con... con Holmer. No, è quella della Holmer. Ma probabilmente lo vedremo nella seconda puntata di oggi. Che lo attivo se no... Aspetta, di qua è l'uscita giusta? Dove sono? Sì, di qua è l'uscita giusta. Beh, potevo uscire anche dal biogas, ma tanto non è un problema. Allora... Uh, qua non si vede un tubo. Eh, qui mi ci vuole il carrellino qua, intanto. Facciamo così, che da così ci vediamo. Mi ci vuole il rimorchio quello per la lama. No, ragazzi, con gli alberi non si vede un tubo qua. Tra gli alberi, tra la lama davanti, non è che facciamo fatica, di più. Allora, se non sbaglio dovremmo andare su. Fammi vedere. Sì, va bene. Dopo la rotonda... Dopo la rotonda, dopo il campo di Luppolo, tocca a noi. Ah, mi diceva pure Marco che è vicino al campo 18, se non sbaglio. C'è un punto che dà collisione... Dov'è sto punto qua? Adesso ci do un'occhiata. Magari gliela do dopo e nella seconda puntata di oggi andremo a vedere questo problema della collisione. Allora, apriamo tutto. Apri tu e apri tu. Allora, facciamo una cosa. I primi due giri li faccio fare a courseplay. Così che non... Non mi rompe tantissimo. Quattro metri, ma... E quattro metri, non è sei. Andiamo a vedere. Allora, la roba acquistata, qua. E quattro metri. Una volta c'era quello da sei. Che cacchio. Allora, dov'è? Facciamone anche... Quattro metri. Cinque per quattro venti, sì, va bene così. Cinque, va bene. Ok. Perché ho bisogno anche un po' di spazio qua davanti. Perché altrimenti non ho dove scaricare. Ok. Allora, lui... Può lavorare benissimo. Tanto prima che si riempie questa, con 43.000... Un po' di tempo ci vorrà. Va un po' troppo forte per i miei gusti. Questa è una di quelle moddate che ti dà direttamente la mappa, ma i venti all'ora sono troppi. Andiamo su un 17. Anche un 16, va bene. Perché normalmente quella del gioco dovrebbe girare intorno ai 10, no? Facciamo 15, così che è... Sì. Beh, è meglio così. Allora, torniamo qua. Non tu... Ma tu... E andiamo sul 15. Se io ti metto in funzione, cioè arrivi sul 15... Proviamo. Era il 15, no? Perché là sopra c'è il 13 e dopo ci dovrebbe essere il 15. Sì. 15, ok. No, aspetta, qui è il contrario. Sì. Allora... Sì, contro il muro. Perfetto, lo sapevo. Andiamo sul 15, che io nel frattempo... Beh, stavo dicendo, è già piena quasi. Porca trote, è già a metà. Allora, devo preparare un po' di amici. Questo... Perfetto, è perfetto. Allora, devo fare un po' di amici. Allora... 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 Ciao. Allora... 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 Ma dove tocca? Boh, ma lo metto di qui Tu avevi un peso Non mi ricordo dove era Ma dovrebbe essere qua da qualche parte No Dove l'ho messo? Peso dove sei? Boh Forse l'ho lasciato lì vicino al lavaggio No vicino al lavaggio Vicino proprio a casa Allora andiamo a vedere Forse è qui Questo possiamo già attivarlo Perché tanto lui basta cambiare il campo qui Gli diamo il 15 Tutto il resto lui l'ha già impostato Non è un problema Tu vai Lui va adesso direttamente sul 15 Che lì avevamo già impostato tutto Ecco dove è il peso L'ho visto Adesso proprio comodo Vedete quello che Diceva Mi avevano detto Tipo qui non tocca da nessuna parte Però si blocca Non ho capito perché Ah no era questo che gli dava fastidio Strano Sì adesso Fai fuori una macchina Bravissimo Allora dov'è? Non tu Non tu Non tu Non tu Di nuovo Cacchio di rotonda Allora facciamo così ragazzi Che qua Faccio io Perché altrimenti Facciamo fatica ad arrivarci Anche perché dovrebbe essere qua vicino Il campo 18 Cioè il punto del campo 18 Vediamo 18 15 Cacchio dico 18 Ecco infatti 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 Ah mi sono dimenticato Di metterci il coso Eppure ce l'avevo Eppure ce l'avevo Beh adesso Lo vado a prendere con la macchina Allora apriamo qui Apriamo qui Mi sa che il primo giro intorno Intanto allora facciamo Qua io faccio fare A Curse play Vediamo un po' Allora io direi che Tre giri intorno bastano 3 O 4 Facciamo 3 3 per 9 27 27 metri Per far girare Non è male Non è male Sì 3 va bene 3 Inizia dal campo Morbidi Va bene Ok Perfetto Dov'è il punto? Ora questo Ora questo gli gira dietro O gli gira a fianco Perché con gli alberi Che ci sono lì in mezzo È un casino Allora vediamo un po' Che altre Alla fine O per meglio dire Potrei Il primo giro Gli potrei stare dietro io Con il Rimorchio Col trattore Facciamo Facciamoli lavorare Andiamo a scaricare Questo Qua quanto manca Uh Qui allunga Allora Entra a questo Di nuovo Per favore T E allora Ce la facciamo Uscire da qui Oh Finalmente Dai Allora Dov'è l'inizio? Non mi ricordo Dov'è l'inizio Aspetta un attimo Che il giro Qua L'inizio dovrebbe Essere vicino Al campo Del lupolo E allora Fammi un po' Vedere Perché voglio Capire una cosa Prima di scaricare Perché nel momento In cui poi dopo Ci vengo con il mezzo Mi serve Il Percorso giusto Quello per Poi scaricare No Allora Lui va In quella direzione A destra Ok Il campo 9 Il campo 9 Ce l'abbiamo Qui Perfetto Allora io Scarico qua Forse era meglio Se facevo tutto In giro Qui Qui prima Perché se adesso Mi scarica Alla sopra Non va bene No Mi scarica lì Il che significa Che è meglio Che andiamo A noleggiarci Un rimorchio E Qualcosa Di diverso Vediamo un po' Cosa possiamo fare No Dovremmo prendere Uno di questi rimorchi qua Che alla fine Non Non è proprio Quello che vorrei Quando invece Io dopo Vorrei andare Su qualcosa Di completamente Diverso Direi Direi Visto che Vediamo qua Questo No Questo No Harvesting Ci sono Questi Che non c'entrano Niente Beh Allora io Direi che Visto che Siamo anche A buon punto Con la puntata Di oggi Cioè la prima Della domenica Direi che Chiudo questa puntata Qui Ne fatemmo Vado a vedere La mod Quella che dicevo Io Se Magari L'attivo E nella Prossima puntata Sempre oggi Perché la domenica Due puntate di Morgrund Andremo a continuare Con le barbabietole E i mice Un salutone Ciao 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 Ciao